Da quanto sei sposato? Nove anni. Hai figli? Una bambina di sei anni. È perfetto. La mia solita fortuna. Tu non puoi pensare di buttarmi via così, tesoro. Sto per diventare la madre di tuo figlio. Lo dirò a tua moglie! Se lo dici a mia moglie, ti ammazzo. Grazie a tutti.